Buongiorno e benvenuto a questo appuntamento di KOS Informa, la nostra serie di formazioni tecniche molto utili per i maescoltori. Oggi il relatore è Paolo Barbera di KOS Italia e vi ricordo come sempre che in questo evento non potete parlare però se avete delle domande sono molto gradite potete scriverli nella sessione delle domande e dopo a fine dell'intervento ne risponderemo alle vostre domande. Viene registrato l'intervento così si può anche riguardare dopo. Adesso passo la parola a Paolo. Ciao Katrin, buongiorno a tutti, io sono appunto Paolo Barberas, faccio parte del team AgroService Italia e mi occupo specificatamente del Piemonte e del Pavese, quindi allievo di assenza tecnica e sviluppo prodotti. Dunque oggi il titolo del mio intervento è la gestione dell'irrigazione e la concimazione del mais, andremo a fare qualche, appunto andremo a toccare questi due argomenti, ovviamente il tempo è poco, sarebbero da sviscerare in maniera più approfondita ma cercheremo di dare una, giusto qualche indicazione, un'infarinatura su quello che sono questi due argomenti. Partiamo inizialmente all'irrigazione, quindi irrigazione e fa bisogni idrici del mais. Dunque il primo titolo commesso è il mais e l'acqua, ovviamente il mais è una pianta tropicale, una pianta C4, quindi è sicuramente per la sua produttività, per lo suo sviluppo la pianta ha necessariamente bisogno di grandi quantitativi d'acqua. Qual è l'acqua migliore che il mais in campo può ricevere? Sicuramente sono le precipitazioni atmosferiche e un'annata con pioggia ben distribuita e sparsa nei momenti giusti fa sicuramente differenza rispetto a un'irrigazione artificiale e lo si è visto due campagne fa che è stata un'annata eccezionale dove ha piovuto al momento giusto e con i quantitativi giusti. Ovviamente quando poi interveniamo a livello artificiale, quindi con interventi irrigui, il nostro obiettivo è sicuramente l'ottimizzare l'utilizzo dell'acqua disponibile per evitare sprechi. Questo sarà sicuramente un tema già attuale ma nel medio e lungo termine lo sarà sempre di più. Partiamo subito da quello che il mais consuma. Da questa slide ho messo i consumi medi e unitari del mais che sono tra i 500, parliamo di un classe F6-700 ovviamente, sono compresi tra i 500 e gli 800 mm a ettaro, appunto con un fabbisogno unitario di circa 350 mm per chi stanza secca. Questo vuol dire che con una produzione di circa 12 tonnellate a ettaro ci siamo circa sui circa 5.000 metri cubi di acqua, ovvero un millimetro per 20 kg di granella. Eventuali consumi maggiori, quindi fino a 8.000 metri cubi, sono portati da per esempio temperature elevate per lunghi periodi, forte insolazione, basso umidità relativo per prolungati periodi oppure lunghi periodi vegetativi per andamenti stagionali particolari. A fianco appunto ho messo l'esempio appena citato, quindi con sostanza secca, produzione eccetera. Quali sono i momenti sicuramente topici per la pianta in cui non bisogna far partire lo stress perché ci sarebbero poi gravi conseguenze alla raccolta? Sicuramente il primo punto dove bisogna fare prestare molta attenzione è la differenziazione della spiga che avviene a 8-10 foglie. Uno stress in questo stadio fa sì che la pianta programmi una spiga di dimensioni ridotte e diminuisca poi anche l'area fogliare, quindi tutta la parte fotosintetica e di energia. Quindi questo già è un primo punto a cui prestare attenzione. Il momento più delicato in assoluto sono la fioritura, la prefioritura, la fioritura e la fecondazione. In fioritura ovviamente se capita lo stress è il periodo in cui la pianta programma organizza e forma la spiga, quindi numero di ranghi formazione degli ovuli. Qui un intervento di pioggia o intervento in riguo sicuramente in caso di mancanza d'acqua è sicuramente richiesto. In fecondazione, quindi parliamo delle due o tre settimane dopo il termine della fioritura, se la pianta va in stress idrico c'è assolutamente la possibilità che avvengano aborti fiorali e malfecondazioni. Se il danno è minore ci sarà solo produzione di nasi, i cosiddetti nasi sulla spiga, sennò avremo proprio delle spighe malfecondate interamente. L'ultimo punto, poi l'accumulo di amido e riempimento dell'acariosside. Cosa causa la carenza idrica? Può determinare un incompleto riempimento dell'acariosside che rimane appunto striminzita e quindi da problemi poi di produttività. Vediamo qua, vado ancora a rimarcare questi punti, vediamo nel grafico di sinistra l'andamento del consumo giornaliero di acqua del mais. Vediamo dall'emergenza alle 7-8 foglie, quindi in germinazione non c'è troppo bisogno di consumo d'acqua, basta l'umidità del terreno. Durante l'emergenza all'inizio i veri propri consumi, verso i 40 giorni, quindi quando avviene appunto la differenziazione della spiga abbiamo detto non bisogna mandarla a pianta di stress perché c'è la programmazione della spiga, quindi appunto vediamo tra i primi 30-35 giorni perite d'acqua al massimo per evapotraspirazione. Parliamo i 40 giorni e iniziamo ad avere un consumo di 3-4 mm al giorno, per poi arrivare nel periodo con più richiesta idrica che siamo nel periodo tra luglio e inizio agosto dove tocchiamo anche i 5-8 mm al giorno all'ettaro di fabbisogno. Via via si cala, questo poi è il momento topico, la fioritura abbiamo detto del post fioritura, poi via via il fabbisogno idrico cala in agosto fino a poi a toccarlo 0,3 mm al giorno in un terreno comunque argilloso di medio impasto in cui tiene bene l'acqua questo terreno, dall'inizio della dentatura si può già pensare di stoppare l'irrigazione, dipende ovviamente che terreno in cui terreno siamo, la tessitura e la ritenzione idrica del terreno. Appunto, quando parliamo di mais e acqua parliamo anche specialmente di suolo, di terreno e anche ovviamente di tecniche agronomiche, quindi ho messo i tre principali fattori che secondo me entrano in gioco per avere una buona disponibilità idrica nel terreno, sicuramente nelle tecniche agronomiche annoveriamo le lavorazioni del terreno, la concimazione, il controllo degli infestanti, l'epoca di semina, l'aceta del librido e il corretto investimento. Per quanto riguarda tessitura, struttura del terreno e clima, questa è fondamentale ovviamente la capacità di ritenzione idrico del suolo in base alle caratteristiche fisico-chimiche, e poi gli apporti idrici naturali. E infine ovviamente poi l'irrigazione, quindi come, perché e quando irrigare, quindi parliamo di bilancio idrico, efficienza, volumi e differenze e tipologie di irrigazione. Parliamo subito di lavorazioni del terreno. Quando parliamo di lavorazioni del terreno parliamo di, per esempio, di arature in autunno nei terreni ben strutturati, oppure se ci sono altre tessiture valutare altre lavorazioni che siano comunque le più donne possibili. Anche non eccedere comunque nelle lavorazioni per evitare anche perdite per evapotraspirazione, quindi perdita di contenuto idrico nel suolo. Per esempio la sarchiatura in copertura può essere un'idea per limitare le perdite di evapotraspirazione, per esempio. Vale a sé che vediamo nella foto in mezzo una giusta sistemazione anche del campo, quindi per esempio la baulatura o canaletti di scolo evitano ovviamente che ci siano accumuli d'acqua indesiderati, quindi fare in modo che ci sia una corretta distribuzione dell'acqua nel terreno. Sicuramente la concimazione deve essere mirata e ottimale, vedremo poi successivamente come e perché. Questo perché per non mandare né il stress alla pianta né farla eccedere e creare l'usureggiamento, quindi consumi d'acqua eccessivi. Controllo delle infestanti sicuramente sono i primi competitor, le prime competitor della pianta di mais in campo, comunque di tutte le specie che vogliamo coltivare, sia in termini d'acqua ovviamente ma anche in termini di luce e di nutrienti. Quando parliamo di epoca di semina parliamo di non seminare presto in assoluto ovviamente, ma seminare il prima possibile, quindi quando le condizioni le consenziano e quindi il prima possibile. Questo perché anticipiamo l'ombreggiamento del suolo, quindi con riduzione dell'evapotraspirazione, andiamo ad avere un anticipo alla fioritura che oltre a portarci vantaggi a livello sanitario, di piraide eccetera eccetera, non è in questo momento ma anche questi sono vantaggi, va sicuramente a anticipare la fioritura, appunto va a coprire prima il suolo, va a limitare le perdite di evapotraspirazione da parte del suolo e va sicuramente anche a creare un apparato radicale migliore, più profondo che in caso di siccità riesca da solo a tenere la pianta lontano dallo stress idrico. L'ibrido giusto è fondamentale, bisogna scegliere il librido giusto per il potenziale produttivo, per la disponibilità d'acqua, per la tipologia di terreno ovviamente, quindi la scelta del librido è fondamentale per far sì che risponda al meglio a quelle che sono le condizioni, scusate, le condizioni in cui andremo a seminare il mais e ovviamente anche l'investimento va messo nell'investimento corretto consigliato che deve essere ovviamente il più alto possibile consentito, questo appunto per creare una copertura anche in questo caso del suolo e quindi limitare le evapotraspirazione e mantenere più contenuto idrico nel suolo sicuramente. Andiamo a dare due o tre nomi nel suolo, due o tre concetti che avvengono nel suolo, quindi l'acqua nel terreno, quindi parliamo di guardando il grafico che abbiamo in bassa sinistra nei vari colori, abbiamo l'acqua gravitazionale in blu che è quella che occupa tutta la porosità del suolo, ok? Poi abbiamo l'acqua inutilizzabile, quella gialla che vediamo qui sotto e poi abbiamo la riserva utile che è quella azzurra che appunto è la frazione disponibile dell'assorbimento da parte delle radici espresse in millimetri e l'acqua compresa tra la capacità di campo e il punto di appassimento che adesso andremo a capire cosa sono. Partiamo prima dalla capacità idrica massima, vediamo il punto blu in alto a destra e la quantità massima che un suolo può contenere ma non trattenere, abbiamo visto che quindi è quella che poi occupa tutta la porosità del suolo. Quando parliamo invece di capacità di campo, molto importante questo concetto, il livello dell'acqua trattenuta dai colloidi del terreno, quella che sfugge alla forza di gravità. Punto di appassimento è il livello di luminosità trattenuta nei micropoli, quindi i grumi colloidali più piccoli nel terreno, non è a disposizione delle piante, ok? Quindi noi quello che interessa per le nostre piante è sicuramente la riserva utile tra la capacità di campo e il punto di appassimento. Dentro la riserva utile abbiamo la riserva facilmente utilizzabile, in questo grafico lo chiamiamo RFU, ok? RMU è quella utilizzabile, della frazione della riserva utile più facilmente accessibile ai radici e con un basso sperplo di energia da parte delle piante. Quindi poi cosa vediamo in questo grafico a destra? Vediamo in giallo sempre l'acqua utilizzabile, in blu e in giallo è la riserva facilmente utilizzabile, la riserva utile. Vediamo che in base alla tessitura questo varia ovviamente, quindi presenza di colloidi, per esempio di argille e anche di sostanza organica. Vediamo che da un solo sabbioso, un solo argilloso, cambia nettamente la disponibilità di riserva utile ma cambia anche l'acqua non disponibile proprio per la presenza di colloidi e la presenza di microporosità. Vediamo con medio impasto, un solo argilloso e però poi c'è il sopposto che un solo argilloso mal strutturato, un solo argilloso destrutturato, avrà sì un più elevato disponibilità idrica nel terreno ma la maggior parte è indisponibile proprio perché essendo destrutturato mantiene e trattiene molta più acqua che non è disponibile per le piante. Il rosso è il punto di appassimento ovviamente. Sicuramente come ho messo qui nel pallino, nella bolla verde, la presenza di stanza organica nel suolo condiziona tutti questi equilibri. Andremo poi a vedere dopo il perché ma sicuramente stanza organica va a migliorare le qualità fisico-chimiche e idrologiche del terreno. Dunque questa slide vi ho prima a darvi un concetto che è quel concetto di potenziale totale. Che cos'è il potenziale totale riferito all'acqua nel terreno? Il lavoro richiesto per spostare l'unità di quantità espressa in massa e volume da uno stato standard di riferimento, potenziale zero, quindi acqua pura liberamente circolante, ad un punto determinato del suolo. L'unità di misura è il bar, quindi è una pressione negativa, attenzione, assunzione ed espressa con la seguente formula. Quindi vedete la formula, vedete le varie componenti della formula, vedete sotto il grafico vediamo come capacità idrica massima è sopra lo zero, poi via la capacità di campo e potenziale zero e poi via 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 scende. Perché ho introdotto il concetto di potenziale? Perché quello che mi interessa andrà a sostenere è sicuramente le curve, scusate, sono le curve di ritenzione. Vedete in questa curva, lo vedete a destra, in questo grafico con la linea rossa in suolo sabbioso, in blu un suolo limoso e in giallo l'argile e i diversi comportamenti che hanno, che ha l'acqua in questi terreni. Cosa sono le curve di ritenzione? Le curve di ritenzione esprimono il rapporto tra il potenziale idrico, che a sinistra in questo caso è espresso da questo indice numerico e semplificato PF, ok? E l'umidità del suolo che abbiamo sull'asse delle ascisse. Ed è appunto come detto una situazione condizionata dalla tessitura e dalla struttura del terreno. Cosa ci danno queste curve? L'andamento delle curve ci dà valori dell'umidità, qui si raggiunge la capacità di campo, vedete in rossa sicuramente, e il punto di appassimento nei diversi tipi di terreno. In giallo abbiamo i punti di appassimento. Vedete come cambia molto l'andamento da un suolo sabbioso a un suolo argilloso e quando tempo ci metta di più a perdere, ad avere tutto il suo, la sua riserva utile, ci metta molto più tempo un suolo argilloso che un suolo sabbioso. Va da sé perché il suolo sabbioso ha molto più macroporosità rispetto al suolo argilloso. Cosa conosciamo? In questa curva conosciamo, come vedete da questa retta azzurra, il momento dell'irrigazione. Ok? Questa retta azzurra ci indica il momento in cui è ottimale intervenire l'irrigazione per poi riportare il livello alla capacità di campo. Sicuramente cosa ci dice questa, infine queste curve? Che dobbiamo adeguare la nostra tecnica in rigua migliore sicuramente in base alla curva di ritenzione, quindi in base a che tessitura, in base a cosa abbiamo, dobbiamo cercare di adeguare la nostra metoda in rigua anche in base a disponibilità economica, in base alle varie contesti che troviamo nei nostri campi. cosa entra in gioco anche parlando di acqua nel terreno, parlando di pioggia utile, quindi la quantità di pioggia disponibile all'assorbimento della parte delle piante, ovviamente quella che cade nei primi 2-5 centimetri non si va a contare e oltretutto se ne cadono 10 millimetri cumulati in tre giorni non è da considerare pioggia utile. La rugiada non apporta quantitativi rilevanti e le falde idriche e freatiche sicuramente contribuiscono in loro modo, dipende dalla loro profondità e dal loro, e dal loro, e dal tipo di terreno. Quando è che interveniamo ai rigare sicuramente? Abbiamo detto guardando le curve di ritenzione, l'acqua nel terreno, le piogge utile, bisogna fare in modo di appunto trovare il momento giù ideale. Cosa succede? Se ritardiamo questo intervento, porta a perdere tutto, parte il beneficio dell'irrigazione se si apporta, ok? Quindi se arriviamo in ritardo, la pianta un po' danni stress e creare poi danni che ci ritroviamo poi alla raccolta, un'irrigazione invece su un terreno sufficientemente provvisto d'acqua porta ad una spesa inutile con aggrave dei costi di coltivazione e va da sé che aggiungere costi ad altri costi, specialmente poi in questa annata, non è assolutamente il caso. C'è un caso in cui per esempio c'è l'acqua turnata, quindi l'irrigazione turnata, in quel caso lì bisogna cercare di fare il massimo facendo coincidere la turnata con il fabbisogno idrico, ma è chiaro che è un po' più difficile sicuramente. Quindi come riusciamo a capire perché e quando irrigare? Abbiamo il nostro strumento che è uno strumento matematico che è appunto il bilancio irriguo, sicuramente non di facile applicazione tutti i giorni, bisogna avere degli strumenti, bisogna applicare anche formule abbastanza complicate, io ve la enuncio perché è giusto citarlo. Appunto quindi la stima il fabbisogno irriguo è data da questa equazione in cui abbiamo consumi per avvotraspirazione e T, N sono apporti naturali tra idrometeo e falda, PR sono perdite per l'uscellamento e di variazioni positive o negative dell'umidità nel terreno e della vegetazione. Cosa succede poi in campo? Ovviamente l'operatore, l'agricoltore deve poi scegliere il momento ideale per poter irrigare. Cosa succede? Che ci affidiamo a un metodo ovviamente empirico che non è rigoroso, è poco rigoroso ovviamente, ma la conoscenza dell'agricoltura dell'operatore nei propri campi, della propria esperienza, conoscendo la struttura del terreno, conoscendo come si comporta il campo, può decidere in base a determinati fattori, quindi terreno piuttosto secco, foglie raggrinzite con un periodo soleggiato e passato tanto tempo dall'ultima pioggia, sono tutti fattori che ripeto è un sistema poco rigoroso ma che può ovviamente poi quello che succede in campo ci può aiutare per capire il momento dell'irrigazione. Il metodo più scientifico e più rigoroso possibile ovviamente è quello del fabbisogno idrico come ho appena annunciato. Bene, abbiamo scelto il momento ideale, abbiamo valutato qual è il fabbisogno idrico tramite il bilancio idrico, andiamo adesso a capire qual è l'efficienza e il volume da dare a irrigazione. L'efficienza è data da questa equazione, quindi dal prodotto dell'efficienza di trasporto, efficienza di distribuzione e efficienza di applicazione. Il volume di adacquamenti invece è dato dal tipo di terreno, dalla specie coltivata e dal metodo di irrigazione. La specie coltivata in questo caso è il mais. Se abbiamo, vedete questa equazione qui dove entra in campo la profondità dello stato bagnato, la densità apparente del terreno, la percentuale della capacità di campo e l'unità del terreno al momento dell'intervento. Come ho detto precedentemente, qual è l'obiettivo dell'irrigazione? È dare un quantitativo che riporti alla capacità di campo la parte di suolo che è in cui è interessato lo sviluppo delle radici. Andiamo adesso a vedere velocemente quali sono i principali tipi di irrigazione che troviamo nel nostro area, ma io dico, nella pieduna padana. Sicuramente abbiamo quello per aspersione, che è utilizzabile per tutti i tipi di terreno. Sistema più adatto ad ambienti con medio-bassa disponibilità ad acqua, un'efficienza molto elevata, del 70-90%. Possono essere impianti fissi, mobili e semi-fissi, i classici irrigatori di giganti semoventi, i ranger, i pivò, eccetera. Cosa ci consente di fare con le polirrigazioni e l'aspersione? Anche le cosiddette irrigazioni di emergenza, per esempio per evitare la germinazione o favorire l'azione degli erbicidi, se mancano piogge e quant'altro, anche distribuzione di fertilizzanti o anche tecniche di fertilizzazione. Abbiamo poi la classica infiltrazione a scorrimento, che è quella che ovviamente consuma più alto quantitativo d'acqua, che ha l'efficienza più bassa, del 40-60%, e consigliata nei terreni di medio-impasso dotati di buona capacità di assorbimento, ovviamente, perché ha bassa efficienza, perché ha forti periodi per precolazione, per scorrimento superficiale ed è adatto ovviamente ad ambienti con abbondante disponibilità d'acqua e a basso costo, va da sé. Cosa richiede? Richiede specifiche sistemazioni irrigue, anche temporanee, adatte per lo scorrimento e infiltrazione dell'acqua, la doppia, la semplice spianata, eccetera, eccetera. Ultimo caso che andiamo a considerare è l'irrigazione localizzata o microirrigazione, che può essere o a lago acciolante o a lago acciolato interrato, vi ho messo alcuni esempi, ma sicuramente ci sono diverse tipologie, quella più alta efficienza ovviamente è il 90%, e permette un'ottimale gestione irrigua e la miglior nutrizione grazie alla fetta irrigazione, questo è sicuramente. Bassissime perdite per evapotraspirazione, inesistenti fenomeni erosivi e di costipamento, possibile utilizzo di acqua più fredda rispetto a quella normalmente tollerata, ok, perché non bagna direttamente l'apparato radicale, consumo di energia relativamente modesto e automatizzazione di interventi irrigu. Quali sono i contro? Ovviamente come tutto bisogna valutare i pro e i contro. Abbiamo la possibile occlusione dei gocciolatori, anche se poi le nuove tecnologie, i nuovi tubi, i nuovi gocciolatori vanno sempre in questa direzione di evitare questo fenomeno, ingombro dei tubi tesi ovviamente in superficie, possibilità che si creano concentrazioni saline dannose, sviluppo di possibili parassiti vicino ai gocciolatori e ovviamente non è adatto a un'irrigazione tornata perché richiede lungo orario di adacquamento. Ha mostrato interessanti risultati soprattutto in terreni sciolti, abbiamo visto dalla curva di ritenzione che si perde rapidamente l'umidità, quindi avendo una unica irrigazione si può dare poca acqua, poca alla volta, poca alla volta e sempre vicino ai radici, quindi specialmente i suoli sabbiosi questa tecnica è particolarmente redditizia. Finito parlare con l'acqua, iniziamo a parlare di concimazione, come ho detto prima. Allora, concimazione del mais, da dove si parte? Ovviamente bisogna partire da analisi del suolo, quindi sapere cosa abbiamo sotto i nostri piedi, cosa andiamo a coltivare, cosa c'è sotto il mais che andiamo a coltivare, ovviamente, e anche quanto asporta il mais, perché se vado a portare più di quello che asporta vado a buttare, sicuramente vado a inquinare e a sicuramente buttare via dei soldi. Analisi del suolo, perché è importante? Perché c'è informazione determinante per formulare un corretto programma di concimazione, perché possiamo avere la disponibilità all'assorbimento di ogni elemento, è legata alle caratteristiche chimiche e fisiche del suolo, ovviamente, e sono fondamentali, conosce la disponibilità di stanza organica, rapporto C su N, azoto, fosforo e potassio e microelementi vari. Perché poi dobbiamo ovviamente partire dagli asporti? Perché bisogna stabilire il quantitativo di elementi chimici da distribuire che si devono considerare consumi medi della pianta, ci sono valori tabellari a cui bisogna fare riferimento. Un razionale pieno di concimazione consiste nel fornire alla cultura un'adeguata quantità di elementi minerali, ottimizzando i rimpieghi, né troppo poco né di più, il giusto che va sicuramente dato. Allora, partiamo dal, sicuramente da valutare la tessitura, questo è il famoso triangolo della tessitura, il triangolo appunto ci restituisce che tipologia di terreno abbiamo, ovviamente la tessitura è una delle più rilevanti caratteristiche del suolo, perché va a influenzare le caratteristiche fisiche, chimiche e idrologiche del suolo, quindi è fondamentale conoscere. È fondamentale conoscere anche la reazione, come ho detto, anche il pH del suolo, perché ci sono diverse specie vegetali, si adattano a diverse tipologie di pH e cambiano ovviamente anche la disponibilità degli elementi. L'optimum per il mais è completo tra il 5,5 e il e il 7 di pH. Altro punto fondamentale, sicuramente conoscere la stanza organica, ok? Quindi vedete in alto a sinistra la tabella con il titolo in verde, dove abbiamo appunto il giudizio rispetto alla tessitura del terreno, perché non solo la montata della stanza organica, bisogna anche rapportarlo alla tessitura. e quindi vedete il giudizio e i vari livelli corrispondenti. E poi bisogna andare a considerare l'azoto nel suolo, sia l'azoto totale che il rapporto C su N. Perché? Perché nel suolo l'azoto è presente in forma nitrica, più mobile disponibile, in forma ammoniacale, che è meno disponibile ed è assorbita dal complesso e soprattutto in forma organica, che però bisogna valutare quanto è disponibile, quanto è il grado di mineralizzazione, quindi di rilascio per le piante. Proprio perché non tutto l'azoto è disponibile per le piante. Come vediamo dalla tabella del rapporto C su N, vediamo la classificazione, quindi basso, normale e alte, vediamo dove se è basso viene liberato, quindi la mineralizzazione è più rapida, dove è stabile, quindi c'è un giusto equilibrio tra immobilizzazione e mineralizzazione dell'azoto, oppure dove è alto il rapporto C su N e della maggior parte è immobilizzato. Poi vediamo anche il dato dell'azoto totale, perché è importante, perché come vediamo da questo esempio, sapendo che il 5% è in forma inorganica dell'azoto, quindi in forma di ammonio e di nitrato, come ho detto prima, una dotazione media, quindi in questo caso dello 0-10% in 30 cm di suolo, che poi è interessato alle piante, avremo 3.000 kg di azoto etero, con un 5% quindi di in forma inorganica, vediamo che 150 kg di azoto etero sono disponibili nel terreno da considerare sicuramente. La capacità di scambio cationica è sicuramente molto importante, vediamo nella figura qui in alto a destra, dove c'è l'interazione tra colloide, concime e radici, o comunque elementi colloide e radice, da cose condizionate, condizionate dal contenuto di argilla e dal contenuto di sostanza organica. Più risultano elevati questi elementi, maggiore sarà la capacità di scambio cationica. Va da sé che un valore troppo elevato può evidenziare condizioni che rendono non disponibili per la cultura alcuni elementi, quali potassio, calcio e magnesio, per esempio. Un valore troppo basso indica, per esempio, i rischi di perdite per dilavamento degli elementi nutritivi, quindi in questo caso magari è consigliata un intervento più frazionato e più mirato per evitare appunto perdite. Quali sono i valori a cui dobbiamo fare riferimento? Nei suoli coltivati siamo tra i 5 e i 50.000 equivalenti per 100 grammi, un valore medi sono tra i 10 e i 20.000 equivalenti su 100 grammi. Andiamo ora a parlare di fosforo, potassio e i vari rapporti tra gli elementi. In alto a sinistra il fosforo, sono indicate concentrazioni di fosforo appunto assimilabile col metodo Olsen, ok? E quindi è relativa interpretazione, ok? Quindi molto basso, basso, medio, alto. Come vedremo degli asporti più avanti, quando l'apporto è basso o molto basso, bisogna apportare dei quantitativi di questo elemento per arricchimento del suolo, non in copertura, ma lo vedremo successivamente. Se invece è medio, alto o molto alto, vedremo che non c'è bisogno di intervenire, se non in qualche caso particolare. Quando parliamo di potassio anche, lo rifacciamo anche ovviamente in base alla tessitura, vediamo qui il giudizio, molto basso, basso, medio, elevato, eccetera, le varie disponibilità in rapporto alla tessitura del terreno e poi abbiamo ovviamente anche il giudizio agronomico, bisogna farlo anche in base alla capacità di scambio cationico, ok? Quindi in base alla tessitura, in base alla capacità di scambio cationico. Potassio, calcio e magnesio fanno parte del complesso di scambio assieme al sodio. Quindi l'interpretazione e dotazione di questi elementi è molto importante e va valutata appunto in relazione alla capacità di scambio cationico come vediamo in questa, nella seconda tabella riferita al potassio. E' anche sicuramente molto importante valutare il rapporto per esempio tra magnesio e potassio. Vedete che abbiamo l'indicazione del rapporto, la valutazione e le conseguenze. Quindi per esempio se è ottimale, nutrizione equilibrata, non avremo grossi problemi. Se sono squilibrato da una parte o dall'altra, avremo magari rischio di carenza di magnesio e rischio di carenza di potassio che andremo a vedere poi quali problematiche andranno ad apportare. Ecco perché è importante conoscere cosa c'è nel nostro suolo, fare analisi del suolo, fare questi investimenti perché sicuramente poi ci ritornano. Andiamo adesso in campo cosa succede. In arancione è la curva della fitomassa, invece in verde le esigenze nutritive. Ok? Vediamo in basso il fosforo che viene utilizzato durante tutto il ciclo vegetativo, ma la parte principale sicuramente all'inizio, quindi vicino al seme e all'emergenza per cosiddetto effetto starter del fosforo, insieme ai microelementi, per esempio lo zinco. L'azoto, i primi stadi di sviluppo non ha grosse esigenze, via via sale fino a arrivare a un picco in fioritura e post fioritura per poi decrescere in maturazione. In potassio è anche lui durante tutto il tempo in cui la pianta sta in campo, ma sicuramente il momento più topico è subito prima e subito dopo e durante la fioritura del potassio sicuramente. Qui in alto a destra vediamo per ogni quintale di ranella secca prodotta quanto assorbe la pianta di mais per ogni elemento. Abbiamo 2,2,4 kg di azoto, 0,9 e 1,3 kg di anidride fosforica e 1,4 e 2,2 di ossido di potassio. Partiamo adesso per vedere un attimino singolarmente elemento per elemento. Vediamo perché l'azoto è importante, perché l'elemento chimico che fa appunto per lo sviluppo del mais è molto importante, è una costituente delle proteine, regola lo sviluppo e la funzione del protoplasma. Carenze si manifestano in questi due modi, sia sulla foglia, specialmente nelle foglie basali e poi se si ha anche carenze di azoto vedete come la spiega si potrebbe presentare. Quali sono i fattori che possono creare carenze di azoto? Sicuramente siccità, temperature alte, bassi livelli di fosforo e potassio, ci sono molte interazioni tra questi tre elementi, quindi vanno specialmente anche abbastanza correlati. Possono bloccare i nitrati nella parte vegetativa della pianta, quindi occhi che sono tossiche per gli animali se non sono ben distribuiti durante la, su tutta la pianta. In questa tabella vi ho messo, ho messo le asportazioni, quindi in base a quello che abbiamo detto prima e degli esempi di concimazione, quindi quali elementi di concimazione si possono raggiungere con alcuni, con alcuni per esempio, per esempio il valore minimo è considerato in terreno argilloso, ovviamente in cui c'è meno di lavamento, in cui c'è più interazione con la pianta, non bisogna superare i livelli massimi perché è dannoso, inquinante e ovviamente vado a avere uno sperpero sicuramente economico. Nei terreni sciolti consigliato frazionare in due o più interventi, ovviamente se si appora senza organica, lo vedremo anche tra poco, il quantitativo può essere ridotto del 20% o in base a quanto è apporto, farò fare i calcoli su quanto viene apportato come sostanza organica, quindi poi dovrò sottrarre da questi asporti quanto portato in sostanza organica. Attenzione che l'azoto è l'elemento che si muove di più nel terreno, è quello più soggetto a dilavamenti, più o meno accentuati in funzione delle caratteristiche del terreno, del tipologia di fertilizzante utilizzato e delle condizioni meteorologiche e climatiche. Parlando di fosforo, fosforo è essenziale per la crescita del mais, sono le due funzioni principali, trasferimento di energia all'interno della pianta e ruolo strutturale che ha nei componenti della cellula, quindi fosfolipidi eccetera. Vedete nelle due immagini sottostanti quali possono essere i sintomi, quindi sulla foglia, sui bordi della colorazione rossa, che compare precocemente da quando la pianta raggiunge 50-60 cm e che possono poi andare a creare interferenze negative con l'impollinazione e quindi la fecondazione delle spighe, vediamo come in questo caso viene curvata e sicuramente non sarà produttiva, sviluppo insufficiente dell'apparata radicale, crescita lente alla pianta con riduzione della taglia, quindi avere carenze di fosforo è davvero, bisogna fare molta attenzione proprio per questo motivo. Da non confondere questa sintomatologia, quindi delle bordure rosse con l'effetto cosiddetto purple, quindi l'effetto rosso che avviene dopo periodi di freddo che poi inizia alle temperature essere adeguate, la pianta si sviluppa e accumula zucchero nelle foglie, non riesce a smaltirle, poi dopo qualche giorno si riprende, questo è l'effetto cosiddetto, l'effetto purple che è genetico ma non ha nulla a che vedere con la carenza di fosforo. La carenza di fosforo si vede precocemente ma poi si perpetua nel tempo. Anche in questo caso abbiamo fatto, ho messo in tabella gli asporti e le varie concimazioni, vedete che con una concimazione di suolo a alta dotazione l'apporto è zero, tranne una concimazione starter che è il periodo più critico appunto all'inizio stagione come abbiamo visto nelle slide precedente, quindi è fondamentale un apporto di circa 70-90 kg di anidride fosforica, indipendentemente dalla granometria e dalla dotazione del suolo sul suolco di semina. Il cosiddetto intervento per esempio cobbiammonico o qualsiasi altro concime binario eternario con la presenza di fosforo. L'azoto abbiamo visto non è importante in questi, o meglio va bene come coadjuvante appunto del fosforo, ma non bisogna dare grossi quantitativi se non appunto il fosforo, anche se la dotazione è alta. Se invece la dotazione dei suoli è media o bassa, si interviene non in copertura ma lontana della cultura, quindi magari in presemina, per dotazioni di arricchimento. Parlando di potassio, sicuramente il potassio è un elemento ancora più importante del fosforo perché ha funzioni di regolatore e catalizzatore di importanti processi metabolici. Vedete anche in questo caso i sintomi sono sempre di una spiga ragrinzita con il naso e abbiamo invece ingiallimenti della foglia sui bordi e nelle nervature. Quando è che sono probabili le carenze di fosforo, probabilmente in terreni con basso potassio, appunto con terreni sabbiosi, dilavati e con alte concentrazioni di calcio e magnesio. Come ho detto prima, sono solo competitor nel sito di scambio e quindi con alte concentrazioni di calcio e magnesio può essere probabile la carenza di potassio. Cosa succede? Viene limitato lo sviluppo fogliare, l'attività respiratoria, peggiora il bilancio idrico in situazioni di squilibrio, quindi sia in squilibrio anche di azoto e fosforo e vengono ovviamente la pianta accentua allettamenti e attacchi fungini, in special modo l'elimento sporioso. Si manifestano le giovani foglie con ingiallimenti, strutture internervalli gialle e margini secchi, riduzione della dimensione della spiga e punta non fecondata. Quindi bisogna fare sempre molta attenzione per questo è importante conoscere, partire dall'analisi del suolo. Anche in questo caso andiamo a vedere gli asporti e le varie concimazioni, con sua alta dotazione da granella e i tezzeri, invece da trinciato si consiglia comunque una minima, un minimo intervento perché comunque va, si considera che si è determinato un consumo di 0,4 kg a ettaro per ogni quinta di distanza verde, ok? Ma se non si interra gli stocchi e non si può la stanza organica, trinciato sporta parecchio potassio, quindi se si pensa specialmente a far trinciato, gli apporti di potassio sono comunque in minima parte consigliati. Se invece si attuano le tamazioni o comunque il suono, avendo tanto di distanza organica di questo elemento, si può comunque sempre valutare. Vado a fare due dei rapidi esempi adesso per esempio di concimazione solamente minerale, vedete la pianta in campo, il suo ciclo culturale, vedete al punto 1, in presemina per esempio, essendo minerale non abbiamo rapporto di distanza organica, abbiamo visto l'analisi del suolo che la dotazione è medio-medio-bassa, quindi andremo a fare un intervento di cloruro di potassio di circa 70-150 kg di potassio per andare a incrementare la dotazione del suolo. Alla semina invece il fosforo abbiamo visto che è medio-alto, quindi comunque andiamo a fare un intervento localizzato del fosforo, quindi 90-110 kg di aderide fosforica accompagnato da 30 kg di azoto, che va a fare da coadiuvante, non serve tanto per la pianta ma in quanto coadiuvante. Ricordiamoci sempre che dare l'azoto prima che ci sia la pianta, a meno che non sia un intervento di lenta cessione, quindi intervenga più avanti, non ha grandissimo senso. Al punto 3, l'intervento distribuire tutto l'azoto rimanente ovviamente in uno o più interventi in base a come la cultura, in base alla scelta del fertilizzante, in base a diversi fattori e andiamo a dare il restante quantitativo di azoto in base agli asporti, in base all'ossolto senza organica, eccetera, eccetera. Ma poi senza organica e concludo, perché andiamo a concludere? Perché è importante sicuramente perché è un risparmio economico ambientale, andiamo a sfruttare quello che di fatto è un rifiuto che chi ha possibilità che ce l'ha in azienda, quindi sicuramente però da sfruttare e da valorizzare. L'assolanza organica migliora le proprietà biologiche, fisico-chimiche del suolo, migliora la struttura, la ritenzione idrica, aumenta la potenzialità produttiva e sicuramente la lavorabilità anche ovviamente e migliora anche lo scambio degli elementi nutritivi e la circolazione dell'aria nel suolo. Limita la perida per diventamento degli elementi nutritivi, migliorando la loro disponibilità all'assolvimento da parte delle piante, quindi ricordiamoci sempre che l'assolanza organica è molto importante. Chi ce l'ha, specialmente in questo periodo in cui i concimi sono particolarmente, il costo è praticamente esoso, bisogna sicuramente sfruttarla e usarla nel migliore dei modi. Ovviamente ho fatto un piccolo esempio, in basso abbiamo i valori tabellari delle caratteristiche delle varie matrici, quindi abbiamo le tamme bovino, liquame bovino, liquame suvino e pollina. Vedete come il contenuto di azoto, fosfero e potassio di per sé non sia granché elevato rispetto ai concimi minerali, ma ovviamente che i quantitativi che si distribuiscono sono molto elevati e quindi poi vanno sicuramente ad essere di entità considerevole da valutare. Per esempio vediamo che se lo spargo 500 quintali, liquame bovino, liquame suvino, l'etame bovino, abbiamo comunque discrete quantitativi apportati di vari elementi. La stagionalità, quindi in base a quando distribuisco la stanza organica ho diverse efficienze, per esempio in primavera in preparazione eletto di semina l'equame bovino ha 70% di efficienza così come l'equame suvino, invece per esempio se vado a dare l'etame bovino in autunno in aratura al 55%, questi sono valori tabellari della regione di ambienti. Concludo, parlavo di appunto di ottimizzazione di stanza organica e perché è importante usarla, vediamo come per esempio il residuo culturale che interviene nel terreno viene subito a che fare con dei microrganismi che vanno anche a diventare dei competitor della pianta perché vanno a utilizzare inizialmente anche dell'azoto inorganico, quindi dell'ammonio o del nitrato e vanno ad immobilizzare, si chiama fase di immobilizzazione dell'azoto, per poi dopo un tot di tempo avere invece lo stadio cosiddetto di mineralizzazione, quindi di rilascio di ammonio e di nitrato. Più è alto il rapporto di carbonio-azoto, più queste due fasi saranno enfatizzate, più è basso meno ci sarà immobilizzazione, ci sarà subito mineralizzazione netta. Il mais per esempio ha come rapporto di carbonio-azoto superiore ai 20, quindi si considera elevato. Se andiamo a vedere a destra adesso queste due curve, vedete come partiamo da un residuo di rapporto di carbonio-azoto di 60, quindi decisamente elevato, vedete che subito avremo dell'immobilizzazione netta. E cosa succede? Abbiamo, qui c'era il livello di nitrato e qui abbiamo un livello di CO2, vedete che appena in terra entrano in gioco i microorganismi, iniziano a lavorare e quindi abbiamo rilascio di CO2 e immobilizzazione di azoto. Per poi dopo 4-8 settimane avere un rilascio e aumentare il livello precedente di nitrato, quindi questo fenomeno è da sfruttare. Abbiamo appunto la mineralizzazione netta con rilascio di nitrato. Qual è la cosa che bisogna cercare di fare? Cercare di interrare o dare la sonza organica in momenti magari di riposo vegetativo, quindi che non vanno in competizione con la pianta e non vanno a concidere col fertilizzante, per poi avere il rilascio, quindi la mineralizzazione durante lo sviluppo vegetativo quando ci interessa, perché se per esempio vado a interrare un residuo insieme alla fertilizzazione ho il rischio di andare a dare il nostro fertilizzante ai microorganismi piuttosto che alla pianta, quindi intercompetizione. Quindi devo cercare di non mettere in competizione la flora del terreno che ci va a poi dare dei vantaggi con la nostra cultura, in questo caso il mais. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Paolo. Allora ci sono due domande. La prima domanda è la scelta ibrida delle sementi, che vantaggi comporta? Ok, la scelta degli ibridi, delle sementi? Penso di sì. Ok, beh sicuramente l'ibrido sapete che è quello che ha maggior rigore del mais, tutte le sementi di mais sono ibridi. La scelta va appunto, come dicevo prima, una buona scelta di ibrido sia in termini di concimazione che in termini di irrigazione, va fatta nella maniera più oculata possibile perché devo centrare al massimo quello che è il mio reale, quello che è il mio ambiente di coltivazione, quindi quello che è, qual è il livello produttivo, qual è il livello disponibilità di acqua, qual è la mia capacità, quali sono i miei terreni in termini di distanza organica, di concimazione e quant'altro. Per esempio se vado in un suolo, in una zona in cui ho difficoltà a bagnare, sono terreni particolarmente ricchi di distanza organica e ho bisogno di un ciclo corto, per esempio un 400, non potrò sicuramente andare a mettere un 6-700 che ha bisogno di essere di input idrici e di concimazione diametralmente opposti, quindi se un ambiente è da 400 dovrò andare a mettere un 400 o magari anche di classe inferiore per riuscire a valorizzare al meglio, ovviamente la produzione sarà più bassa ma andrò a migliorare quello che è la sua efficienza in termini idrici e in termini di concimazione. Ok, poi abbiamo... E' ora di aver concentrato la domanda. Grazie. Avevo una seconda domanda. Sì? Che chiedono, i costi attuali dei fertilizzanti sono abbastanza alti e chiedono come agire per la consumazione di questa nata agraria. Ok. Allora, bella domanda. Sì, i costi sono particolarmente alti, prima di tutto se non mi addentro in questo argomento anche perché non sono ferratissimo. Risponderei dicendo che bisogna sfruttare quello che ho detto proprio alla fine, quindi chi ha disponibilità in stanza organica di riuscire a valorizzare queste matrici perché sicuramente sono apporti di elementi importanti, sempre rispettando le normative, in zona nitrati, fuori zona vulnerabile, in zona vulnerabile, ovviamente, ma per esempio chi ha la possibilità per esempio con gli uti PSR degli ultimi anni di interrare, interrando si aumenta notevolmente l'efficienza dell'azoto interrato, qualcuno, so già di che, fa la concimazione in copertura di mais, anche lui entrando con magari con digestato, con altre matrici organiche, quindi sicuramente bisogna valorizzare la stanza organica e poi ancora di più conoscere l'analisi del suolo, fare un buon piano di concimazione per non andare a spendere troppi soldi, specialmente in quest'anno, e a dare cose che magari alla pianta non servono, perché se la pianta ha bisogno 100, non vado agli 120, perché vado a, oltre che a buttare via i soldi, vado anche a inquinare con nitrati sicuramente. Perfetto, visto che siamo abbastanza bene nel tempo, ti farei anche una terza domanda che ci è arrivato. La domanda è, se esistono delle tecnologie che ci permettono di individuare il periodo migliore per irrigare, al di là di quanto avevi già detto in presentazione? Ok, sì, sì, ok, sì, ovviamente ho fatto analisi più, anche più bibliografica, quindi si parla sempre di bilancio idrico, quindi tutto quello che entra in gioco, evapotraspirazione, eccetera, sono tutte formule più difficili, poi ho fatto all'estremo un metodo molto empirico di esperienza, di conoscenza dei propri terreni. Ma ultimamente, non solo ultimamente, negli ultimi dieci anni, anche già, comunque negli ultimi anni soprattutto sono state implementate, magari delle, sicuramente tutto quello che riguarda l'agricoltura di precisione, quindi tutta la sensoristica e anche a livello satellitare c'è la disponibilità, per esempio faccio il caso nostro, KUS, perché lo conosco in prima persona e perché lo sto utilizzando, abbiamo col portale, col portale che abbiamo noi con l'app su internet, quindi MyKUS, si riescono a, tramite mappe di, tracciando le mappe come fosse, come fosse, tra virgolette Google, settimanalmente c'è un sistema di satelliti che restituisce il valore di densità del verde, quello più famoso è l'indice NDVI e anche lo stato, e quindi anche in base al verde, anche lo stato idrico della cultura. Quindi sicuramente non è, abbiamo detto, rigoroso come il bilancio idrico, ma è molto meglio di, sicuramente di quello meno rigoroso che il metodo empirico che ho, che ho descritto poc'anzi. Per cui avere già disponibilità, per esempio, uno strumento come monitorare settimanalmente il passaggio dei satelliti che ci dice lo stato idrico della nostra cultura è sicuramente già un passo avanti importante che immediatamente ci restituisce la fotografia immediata del nostro campo e quindi quando intervenire sicuramente può essere, può essere interessante. Con tutti lo smartphone a disposizione e potendolo consultare immediatamente, sicuramente questi qui sono strumenti che avranno poi la maggiore anche in, sono già utilizzati attualmente e in futuro avranno ancora uno sviluppo maggiore e l'agricoltura di precisione sarà poi dove stiamo andando. Grazie Paolo, mi sembra che hai risposto a tutto e tutte le domande che c'erano. quindi ringrazio tutti per la partecipazione di oggi, abbiamo finito anche le domande e vi invito di seguire anche il prossimo appuntamento sul mais biologico e vi auguro. Siamo sulla PAC, mi risentirete. Anche questo sì. Grazie mille Catrina e grazie a tutti voi. Grazie a te Paolo e a tutti i partecipanti, buona giornata.